Il suo piano, il suo piano infallibile sulla rapina alla zecca, professore, è veramente una puttanata, una gran puttanata. Vai in un internet point, stampa le banconote ed è molto più conveniente. Molte grazie per il caffè. Che sia l'ultima volta che parli così a quell'uomo, hai capito? Mi hai fatto proprio vergognare. Non lo vedi che è un intellettuale? E allora? Ognuno è quello che è. Noi dobbiamo avere fiducia in quell'uomo e soprattutto rispettarlo. Io non lo rispetto! No! No, 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 forse il ragazzo ha ragione. Se ci stampassimo le banconote a casa, eviteremmo molti problemi. E poi il costo delle armi, delle munizioni. Denver, tu porti la stampante e noi scarichiamo le banconote da internet. È un colpo da maestro. No, 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 ancora meglio. Io disegno le banconote e tu le colori. Magari ne facciamo due al giorno. Oh, guarda che mano che ho. Attenzione! Si intitola Passione per Juanito. Continuate a prendere in giro?